Una visita degli ospedali abruzzesi, soprattutto quelli delle aree interne, per rendersi conto delle criticità prima di prendere decisioni importanti a livello governativo. È lo scopo del presidente della Commissione Sanità al Senato, Pierpaolo Sireri, che ha iniziato il giro dei presidi ospedalieri nella provincia dell'Aquila, accompagnato dalla senatrice Gabriella Di Girolamo. I due esponenti del Movimento 5 Stelle hanno raccolto informazioni di medici, infermieri e pazienti anche nell'ospedale di Sulmona. Grillo ha firmato appena il patto proscienza, ho anche detto Provax. Da lei da esponente del Movimento 5 Stelle e anche comunque da professionista sanitario, che cosa ci dice a riguardo? Allora, io già ho detto ieri. A me interessa il fatto che sia stato fatto non un patto, ma un'apertura. Nella scienza e nella comunicazione della scienza ai cittadini non deve esserci nessun muro. Gli scienziati devono comunicare dati reali, dati credibili, sinceri, trasparenti. E dall'altra parte la popolazione deve essere pronta ad ascoltarli. Solo senza muri questa comunicazione può funzionare. Quindi la mia gioia nell'apprendere questo nasce dal fatto che si è aperto un dialogo. A me poco interessa di burioni o altre. Interessa che ci sia il dialogo. Il dialogo porta a costruire qualcosa. Volevamo sapere come ha trovato l'ospedale in questo momento. Abbiamo fatto un giro su proposta della senatrice di Gironamo e degli esponenti locali. In quegli ospedali di cui è stata minacciata la chiusura in alcuni casi. Gli ospedali sono stati depotenziati perché i tagli hanno colpito in maniera un po' tutti. Ma soprattutto gli ospedali che magari servono delle aree un po' più sfortunate. Quindi più che ispezione direi un contatto con chi lavora dentro, un contatto con medici, pazienti, infermieri che hanno davvero bisogno di sentire che lo Stato è presente, che lo Stato non li dimentica e che la sanità ripartirà soprattutto dalle zone più disagiate.